Eh sì, diciamo che il mega croccantino è un po' il momento clou dei festeggiamenti o quello più atteso dall'esercito dei Colosi che invade San Marco in questi giorni. Naturalmente come per gli anni precedenti alla pandemia in cui la festa purtroppo non si è potuta svolgere, sarà fatto con l'aiuto in termini di produzione della croccante per intenderci l'impasto di mandorle, nocciole, zucchero che fa da anima del croccantino da parte delle ditte produttrici che lo metteranno a disposizione insieme alle materie prime necessarie, il cioccolato e quant'altro per dare la possibilità poi agli operatori specializzati nel cuore di piazza di sorgimento di assistere a questo mega croccantino che da quello che mi dicono dovrebbe anche essere da record ancora una volta, perciò si punterà anche a fare delle lunghezze record proprio per dare un tocco in più anche di importanza all'evento. Naturalmente sarà come per chi lo ricorda e chi ci sta seguendo in questo momento, insomma come gli altri anni con il solito e consueto carico di entusiasmo della piazza che aspetta poi non solo di vederlo realizzato in tutta la sua lunghezza ma anche rotto e dato in pasto poi a chi sarà lì intorno alle transegne ad assistere alla preparazione. Come ho detto poc'anzi non era per niente scontato la ripresa così bella come quella di stamattina, non era scontato perché ancora non ci si riprende appena da un cambiamento così brusco degli ultimi due anni, non era scontato perché sono addirittura aumentate le difficoltà non solo economiche ma di permessi di raccordo, di autorizzazioni, si era perso pure un po' quell'allenamento diciamo e quindi i miei complimenti veramente a tutti i soggetti coinvolti perché già appena sceso ho visto tanta gente, tanti sorrisi e questa è stata una cosa bella perché è tornata anche la gioia sui volti delle persone. Un po' di pioggia ci ha anche Benedetti quindi la prendiamo anche come un po' un segnale e adesso oggi facciamo l'inaugurazione, si protrarrà nei prossimi giorni, sicuramente ci torneremo continueremo, continueremo ad animare questa comunità perché questo evento rappresenta un fiore all'occhiello non di San Marco ma di tutti i fortori, è sempre stato così e ancora lo sarà perché unitamente ad altri eventi, cito San Giorgio, cito Castelfranco e anche altri, non voglio dimenticare nessuno, sono quegli eventi che caratterizzano, identificano un po' tutto il territorio fortorino.